la gara in corsa vai con la gara vai con la gara per i candidati che devono finire il bottiglio solo su solo vai bevilo 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 via 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 osteria vai vai giù vai lui l'ha seccato lui l'ha seccato grazie lui l'ha perso lui l'ha perso ti ce l'hai fatta bravo cazzo quindi i vincitori sono Mirko Amichi e lui come si chiama come ti chiami? e Marcello esatto esatto e te te dopo ce l'hai fatto te e Simona qual è l'indirizzo facebook che ce l'avete fatto? eh si capuccine al plat dopo ce l'hai fatta dopo ce l'hai fatta capuccine al plat immagino ufficiale allora dopo vi metto su facebook c'ho un piccolo rutino da fare ruta ruta che fa bene ciao a tutti allora saluta a te ciao ciao che se l'hai detto saluto